Benvenuti nella mia solita diretta del giovedì sera, durante la quale voi mi fate le domande e io rispondo per l'appunto in diretta. Stasera oltretutto parliamo in particolare degli ETF che sono stati lanciati oggi. Io però passerei subito alle domande perché mi avete già fatto delle domande via email i giorni scorsi, io quindi parterei a rispondere da quelle. Ricordatevi sempre che potete farmi le domande via email prima, così poi io quando vado in diretta inizio subito a rispondere a quelle e voi potete guardarvi la diretta e avete le risposte alle vostre domande subito l'email è info-marco-cavicchioli.it. Prima domanda, potresti spiegare in cosa consistono e che effetto avrebbero gli ETF su Bitcoin? Allora, innanzitutto va detto una cosa, che quelli che sono stati lanciati oggi non sono ETF generici sul prezzo di Bitcoin, ma ETF su Bitcoin e spot. Che cosa significa? Che sono collateralizzati in Bitcoin. Cioè quando vengono emesse le azioni di questo ETF devono esserci in cassa immobilizzati dei Bitcoin. Quindi più azioni vengono emesse più è necessario che i gestori comprino Bitcoin del mercato e li immobilizzino dentro dei call wallet per far sì che le azioni siano collateralizzate. Che cosa sono gli ETF? Gli ETF sono dei fondi che si scambiano in borsa, exchange trade fund, fondi scambiati in borsa. Banalmente si crea questo fondo, se gli ETF sono come quelli su Bitcoin spot, praticamente l'unica cosa che fa il fondo è possedere un asset, in questo caso dei Bitcoin. Vengono emesse delle azioni del fondo, queste azioni vengono vendute, chiunque possiede le azioni del fondo è parzialmente proprietario del fondo. Il fondo è proprietario di un asset, in questo caso di Bitcoin e quindi chi ha azioni dell'ETF di fatto è proprietario indirettamente di alcuni Bitcoin. Pochi perché in genere in questi fondi funzionano così, per fare in modo che il prezzo dell'azione sia basso vengono emesse tantissime azioni, molte più dei Bitcoin. Ad esempio, l'ETF di BlackRock, quello più importante, che è stato lanciato oggi. In totale il fondo ha emesso, aspettate che ce l'ho qua, no, non lo vedo comunque, ha emesso tantissime azioni. Stiamo parlando di milioni di azioni, adesso non so se un milione eccetera, però in cassa c'ha solamente 228 Bitcoin. Quindi questi 228 Bitcoin valgono 10 milioni di dollari, però le azioni emesse sono diversi milioni. Quindi in altre parole, chi possiede un'azione di questo ETF, possiede solo una piccolissima porzione di Bitcoin, veramente molto poco. Che effetto avranno? Beh, molto semplicemente, dato che per emettere le azioni devono comprare Bitcoin e immobilizzarli sul mercato, quante più azioni vengono emesse di questi ETF e tanti più Bitcoin vengono ritirati dal mercato. Quindi si riduce l'offerta di Bitcoin, aumenta quella di queste azioni. Però dato che queste azioni sono rivolte in genere a persone che non hanno Bitcoin, che non hanno comprato Bitcoin, praticamente questo dovrebbe aumentare, far aumentare il prezzo di Bitcoin perché si riduce l'offerta. Seconda domanda. Se io converto ad esempio un Ethereum in Solana, dopo 15 giorni riconverto Solana in Bitcoin, dopo un mese riconverto Bitcoin in Avax, tutte queste operazioni mi confermi che non sono fiscalmente rilevanti? Sì. Perché le operazioni, le transazioni, gli scambi di criptovaluta in criptovaluta, non sono per la legge italiana fiscalmente rilevanti, quindi non si pagano tasse. Se tu vendi Ethereum per Solana e hai una plusvalenza, non ci paghi le tasse. Però attenzione, queste non sono conversioni, ok? Sono vendite a tutti gli effetti, ok? Le conversioni sono vendite, vendite e acquisti. Se tu converti Ethereum in Solana, in realtà tu vendi Ethereum e incassi Solana. La cosa importante è che non sono fiscalmente rilevanti perché si tratta di operazioni tra criptovalute. Se invece tu vendi Ethereum ma incassi USDT, la transazione è fiscalmente rilevante. Tutte le stable coin, gli scambi stable coin sono fiscalmente rilevanti. Altra domanda. Non mi è chiaro se DAI è da considerare un asset referenced token. Se così fosse, adesso poi dopo vi dico cos'è. Se così fosse, allora potrebbe essere un sistema per non pagare le plusvalenze. Perché se tu vendi Bitcoin in DAI, l'evento sarebbe fiscalmente non rilevante. A me risulta che sia così perché dovete sapere che DAI è sì una stable coin, ma è una stable coin che non è collateralizzata in fiat, vale sempre un dollaro, ma non è collateralizzata in dollari. E l'emittente oltretutto è uno smart contract. Per poter essere l'evento fiscalmente rilevante, la stable coin deve essere un e-money token e l'e-money token deve essere emesso da una società che ha determinate caratteristiche. Quindi DAI non ha le caratteristiche di un e-money token, tra la legge italiana, e quindi non dovrebbe essere una vendita da criptovaluta in DAI fiscalmente rilevante. Poi però la domanda continua dicendo, poi però se converto DAI in USDT, l'evento sarebbe fiscalmente rilevante ma senza plusvalenze perché il rapporto è 1-1. Ecco questo non credo, nel senso che sì, è vero, se tu vendi DAI in USDT, il rapporto è 1-1, quindi dalla vendita da DAI in USDT non c'è, non ci sono plusvalenze. Però in realtà tu stai monetizzando le plusvalenze che hai già avuto, quindi secondo me non se la beve l'agenzia dell'entrata o una cosa del genere. Non è che io prendo un bitcoin, ho le plusvalenze, vendo in DAI, non pago plusvalenze, poi da DAI vendo subito in USDT e non pago le plusvalenze. No, secondo me invece, cioè fin tanto che vendi in DAI, niente, da DAI a USDT le plusvalenze ci sono, l'evento è fiscalmente rilevante ma conta anche la storia passata. Poi, altra domanda, tu pensi che si arriverà mai ad uniformare le regolamentazioni a livelli internazionali su bitcoin e cripto in generale? Ad esempio avere un'uniformità di tassazioni? No, io non lo credo, anche perché ritengo assolutamente improbabile che stati diversi vogliano trattare la materia in modo diverso. Cioè per carità, quelli dell'Unione Europea sì, adesso c'è una legge europea, il MICA dell'Unione Europea, che deve essere uguale praticamente per tutti gli stati. Però è una legge che non interviene sulla tassazione. La tassazione sarà sempre diversa, ogni stato mette la sua tassazione. Tant'è che in Italia abbiamo la buffonata dell'imposta di bollo del 2 per 1000 sul controvalore in euro delle criptovalute al 31-12 e gli altri invece fortunatamente non ce li hanno. Pensate che addirittura in Germania hanno deciso che se tu tieni le criptovalute in portafoglio per 12 mesi senza venderle, poi non ci sono tasse. Ecco, noi invece ovviamente siamo i peggiori, tra i peggiori da questo punto di vista. Ultima domanda che mi è arrivata via email. Sta iniziando la bullrun? E questa è una bella domanda. Questa è proprio una bella domanda. Perché? Allora, una bullrun c'è già stata, ok? Dai, dai, cioè da 16 mila dollari di inizio 2003, 2023, scusate, fino agli attuali 46 mila dollari una bullrun c'è stata. Certo, non siamo tornati ai livelli passati. Quindi, ora, la domanda sarebbe come andrà a finire? Cioè, si tornerà sui massimi storici? Cioè, circa 70 mila dollari? Il prezzo continuerà ad andare avanti nel 2024? Io ritengo che, io non so quanto sia probabile questo scenario, però io ritengo che perlomeno sia possibile. Cioè, noi possiamo considerare che forse già quest'anno, già nel corso di quest'anno, magari dopo l'albing, il prezzo di bitcoin possa ritornare sui massimi storici e magari andare a fare il massimo di questo ciclo a fine anno. Secondo me è assolutamente possibile, perché stiamo in una situazione anomala, diversa, non è mai capitata in passato una situazione simile. Poi questi ETF, secondo me, pomperanno durante il corso dell'anno, però io non so dirvi quanto sia probabile. Quindi, mi spiace, io non so rispondere a questa domanda, però potrebbe essere, ok? Quindi non lo escluderei. Allora, passiamo alle domande che mi state facendo via chat. Poi, magari, se ho tempo, vi faccio vedere una cosa interessante sui volumi degli ETF. Allora, partiamo con questa. Posso chiederti cosa ne pensi del gruppo di persone o la persona che ha creato bitcoin? Allora, io ho la sensazione che Satoshi Nakamoto sia una persona sola. Probabilmente si lavorava in gruppo. Cioè, è possibile che Satoshi Nakamoto, se voi anche andate proprio a leggere il white paper, in quel white paper che ha scritto lui, ci sono delle cose prodotte da altri. Lui ha preso da altri. Quindi, in qualche modo, è stato un lavoro di gruppo. Ma lui, Satoshi Nakamoto, cioè quello che scriveva sui forum, via email, nelle mailing list, eccetera, secondo me era una persona sola. Io ho l'idea che sia morto. Il motivo per cui non ha mai toccato il milione di bitcoin che ha minato è perché, secondo me, è morto. E secondo me non sappiamo chi è e non lo scopriremo mai. Io non so. C'è qualcuno che dice... L'ipotesi principale che circola è che Satoshi Nakamoto sia al Finney. Al Finney, tra l'altro, a parte che è stato il primo a ricever dei bitcoin, perché Satoshi li aveva solo minati. Poi la prima transazione di bitcoin è stata fatta da Satoshi a Al Finney. Ecco. E oltretutto, un'altra cosa molto interessante, Al Finney, che era uno che stava lavorando insieme a Satoshi Nakamoto a bitcoin, scrisse proprio l'11 gennaio di 15 anni fa del 2009 su Twitter che aveva lanciato un nodo bitcoin, mentre il software per il nodo bitcoin Satoshi Nakamoto lo ha pubblicato a febbraio. Quindi Al Finney aveva già questo software, nonostante invece fosse stato pubblicato poi dopo a febbraio. Però io non so se Al Finney è veramente Satoshi Nakamoto, Al Finney è morto, e quindi potrebbe anche essere, ok? Andiamo avanti. La compilazione del quadro RV per il 2024 è uguale a quello del 2023? Farai poi un'altra diretta con il commercialista? Allora, secondo me non è uguale, perché nel 2023 si compilava stando alla legge precedente. Nel 2024 si compila con la legge nuova del 2023. Quindi io credo che sia, possa essere differente. Può darsi che farò un'altra diretta con il commercialista quando sarà ora, quindi probabilmente, secondo te, parte dei bitcoin necessari per gli ETF sono stati acquistati a prezzi più buoni? Dubito che acquistano a 48 mila dollari. Sì, sono stati acquistati a prezzi più buoni, ma si sa perché è stato dichiarato. Cioè, nei documenti presentati alla SEC, coloro che hanno messo gli ETF hanno già scritto quanti ne hanno comprato e a che prezzo, hanno comprato tra 43 e 44 mila dollari. Non tanto di meno di quelli attuali, però in effetti hanno comprato a prezzo leggermente inferiore. Pensi che possa esserci un rischio di recrudescenza di un'impegnata inflazionistica? Se sì, da cosa pensi potrebbe realisticamente essere causata e quali impatti avrebbe sui mercati? Io in questo momento non vedo questo rischio, nel senso, è una cosa possibile, assolutamente, anche perché, per carità, negli Stati Uniti l'inflazione è salita al 3,4%. Però attenzione, non prendiamo come riferimento l'inflazione generale, perché l'inflazione generale è volatile. Prendiamo l'inflazione core. Vi faccio vedere il dato, eh. Tanto per farvi capire di cosa stiamo parlando. Allora, vediamo se... Allora, vi condivido lo schermo. Eccolo qua. Voi adesso dovreste vedere il grafico dell'inflazione core negli Stati Uniti. Continua a scendere, ok? Non c'è una risalita. Questo è un dato molto migliore da analizzare, perché non è volatile, non oscilla. Vedete, c'era stato un leggerissimo aumento tra febbraio e marzo dell'anno scorso. Poi ha continuato a scendere. Anche questo mese è scesa poco, ma è scesa. Quindi, sinceramente, a mio parere, in questo momento non sembra ci sia un vero rischio di un'impianta inflazionistica negli Stati Uniti dell'America. Magari da noi qualche rischio in più potrebbe esserci, anche perché in Italia, se non sbaglio, è scesa molto. Andiamo a vedere un attimo. Se non sbaglio, da noi la storia è leggermente diversa, perché, se non ricordo male, è stato maggiore... Vedete, da noi la discesa è stata maggiore. Questa è l'Italia. Addirittura siamo scesi a dicembre al 3,08, mentre loro sono al 3,9, ok? Un punto percentuale in più, praticamente. E quindi questa discesa è un po' forte. Quindi in Italia forse ci sarà, magari, un po' un'impennata, una piccola impennata. Negli Stati Uniti, diciamo così, io non vedo questo rischio a breve. Poi, però, attenzione, anche perché stanno facendo effetti i tassi. Certo che se invece iniziassero a ridurre i tassi, perché a marzo forse riducono i tassi, magari poi c'è un aumento dell'inflazione, vedremo. Non so, però, da cosa potrebbe essere realisticamente causata. L'unico dato che mi viene in mente, tralasciando l'inflazione, concentrandoci sull'inflazione corcio, quella senza gli alimentari e i prodotti energetici, forse l'unica causa potrebbe essere un taglio di tassi eccessivi, troppo presto. Andiamo avanti. Cosa ne pensi di un eventuale ingresso nelle Coinbase stock? Beneficeranno riguardo Bitcoin, BlackRock? Allora, io non so dire se valga la pena entrare sulle azioni di Coinbase, però io credo che beneficeranno di BlackRock. O meglio, questi ETF lanciati oggi, in particolare quelli di BlackRock, io credo che avranno un impatto positivo sul prezzo di Bitcoin, e le azioni di Coinbase seguono il prezzo di Bitcoin. Tenete presente una cosa? Su questo dato, se lo trovo ve lo voglio far vedere. Sì, l'ho trovato, ve lo faccio vedere. Allora, questo è la scheda ufficiale sul sito di iShare, iShare è la società di BlackRock che emette ETF, del di EBIT, l'iShare Bitcoin Trust. Guardate questo dato. Allora, in questo momento, questo fondo vale 10 milioni di dollari. 10 milioni di dollari sono pochissimi. Pensate che oggi, come volume di scambi, nella prima giornata, siamo già oltre gli 800 milioni di dollari. C'è un fondo che vale solo 10 milioni di dollari, nel primo giorno di scambi, ha già fatto più di 800 milioni di dollari di scambi. Quindi, quello è un dato che è destinato a crescere. Per crescere, BlackRock deve comprare Bitcoin sul mercato e immobilizzarli in un call wallet, cioè toglierli dai mercati spot, quindi io credo che inevitabilmente farà aumentare il prezzo. Andiamo avanti. Anche la conversione in DAI non è fiscalmente rilevante. A me risulta che la conversione in DAI, cioè, attenzione, DA, criptovalute in DAI, non è fiscalmente rilevante, perché DAI non è un e-money token. Però questa cosa bisognerebbe farsela dire chiaramente da un commercialista esperto. Pensi che sul breve periodo il prezzo salirà? Allora, io sinceramente una cosa come quella di oggi me l'aspettavo. Dire il vero, io mi aspettavo quel prezzo al lancio degli ETF che sarebbe andato a 50.000 dollari e poi sarebbe sceso per un sell the news. È andato fino a 49.000 dollari, non 50.000 e poi è sceso per il sell the news. Adesso però è risalito. Attenzione ad una cosa, che oggi e domani le borse sono aperte, gli ETF vengono scambiati, ma nel weekend no. Nel weekend non ci saranno gli ETF, gli scambi degli ETF. Quindi io, anzi, ho paura che nel weekend il prezzo possa un po' scendere, perché comunque è molto alto. Non me lo vedo scendere di molto, ma ve lo meno vedo scendere. Tenete però presente che gli ETF su Bitcoin faranno effetto positivo sul prezzo nel corso del tempo. Cioè, domani andremo a vedere se BlackRock ne ha comprati degli altri, poi dovrà comprare ancora degli altri, eccetera. Ci vorranno mesi prima che abbia effetto e quindi il prezzo magari salirà, ma nel corso del 2024. Le cripto storate, cioè conservate su call wallet tipo ledger, come vanno trattate? Come le altre, nel senso che a livello fiscale non c'è differenza. Certo, c'è... Allora, il vantaggio sta che se avete, ad esempio, le cripto su Binance, l'imposta di bollo ve la pagano loro. Cioè, la pagate voi, però direttamente da Binance. Invece, se ce l'avete su call wallet, dovete dichiararle in su quadrv e poi dopo pagarci l'imposta di bollo di F24. Adesso non so come si faccia, ma... Vabbè, però fatevi aiutare su queste cose. Può essere che prima dell'alving non ci sia il solito ritracciamento del 50-60% che ha contraddistinto i precedenti halving. Io non me lo vedo. Sto giro non me lo vedo proprio anche per la realtà che il prossimo halving è tra praticamente tre mesi. Un ritracciamento del 50-60% in tre mesi che scenda fino a 20 mila, 25 mila dollari, 20-25 mila dollari. Io non ce la faccio in questo momento vedermelo. Tra l'altro, sì, nel 2020 accadde, ma ci fu un cigno nero all'inizio della pandemia. Nel 2016 io non me lo ricordo, sinceramente. Cioè, il ritracciamento ci fu malanno prima, cioè, nel bear market, nel bear market del 2015. Nel 2016 io non me lo ricordo. quindi, nel secondo ciclo prima dell'halving ci fu un bear market ma non un ritracciamento. Nel secondo, nel terzo ciclo ci fu un ritracciamento ma fu dovuto un cigno nero. Qua, insomma, potrebbe anche non esserci. Ok? Ora, andiamo avanti. Scusate, devo bloccare, cavolo, non riesco a bloccarne uno che rompe le balle. Scusate. Ma è vero che se l'imposta di bollo è inferiore a 12 euro si può anche non pagare e a me hanno detto questo. A me hanno detto che il minimo che lo Stato accetta come pagamento per l'imposta di bollo è 12 euro. Quindi, se voi dovete pagare meno di 12 euro potete non pagare. Questo è quello che mi hanno detto e mi hanno anche citato un documento online di esperti che dicono che in Italia non si dovrebbero pagare l'imposta di bollo sotto i 12 euro. Ad esempio, a me su Binance non l'ha fatta pagare. Probabilmente, perché io ottengo pochissimo sugli exchange, quasi niente e quindi ero morto al di sotto di 12 euro quindi non me l'ha fatta pagare secondo me per quello. Se converto Dai in moneta fiat per un bonifico in banca allora, se tu possiedi Dai li vendi per incassare euro difficilmente c'hai plus valenza perché Dai vale un dollaro e un dollaro in valore abbastanza costante rispetto alle valute fiat. Il problema quindi in quel caso non sarebbe un evento fiscalmente rilevante cioè, o meglio, scusate, l'evento è fiscalmente rilevante però non avresti plus valenze e quindi non dovresti pagarci le tasse sopra. Il problema è da dove ti arrivano i Dai, ok? Perché se tu i Dai li hai usati per incassare delle plus valenze prima, le plus valenze ce l'hai, ok? non ce l'hai dalla vendita da Dai in fiat ma nel percorso complessivo, ok? Poi andiamo avanti. Mi sai dire in dollari quante azioni in totale sono state acquistate? Credo che tu mi stia chiedendo degli ETF, ok? Allora, io adesso vi faccio vedere il dato. Eccolo qua. Questo è la pagina ufficiale dell'Ishare Bitcoin Trust, quindi solamente quello dell'ETF di BlackRock sul sito ufficiale del Nasdaq perché questo è un ETF quotato al Nasdaq. Oggi siamo a 34,5 milioni di azioni vendute. Avete capito? Cioè, questi qua hanno emesso probabilmente circa 3 milioni di azioni, qualcosa del genere. o forse anche meno, forse anche 1-2 e ne hanno già scambiate oggi, nella prima giornata 34,5 milioni. Sono le stesse che passano di mano più volte. Tra l'altro vi faccio vedere anche un altro dato, scusate che un attimo che lo recupero. Eccolo qua. Ah, ok. Aspettate che lo vado a recuperare perché ce l'ho da un'altra parte. Eccolo qua. Su Trading View potete avere quello di sopra è il dato di oggi, ok? Quindi con il time frame di un giorno di Ibit, ok? Cioè l'ETF di BlackRock e sotto c'ho i volumi in dollari. Vedete il volume di scambio in dollari in questo momento è salito a 928 mila milioni. Cioè 928 miliardi di dollari, ok? Questo lo potete fare volendo poi anche per gli altri gli altri ETF. Anche qui in Italia è possibile acquistare gli ETF? Allora, tenete presente che questi ETF su Bitcoin Spot lanciati oggi sono 11 e sono su piattaforme diverse. C'è quello di BlackRock che è al Nasdaq, c'è ad esempio quello di Bitwise e quello di Grayscale che è al Nise, cioè alla borsa di New York, al Nise Arca. Altri sono sul CBOE e quindi per comprarli tu devi riuscire ad avere una piattaforma che ti dà accesso a quei titoli. Tra l'altro c'è qualcuno che mi ha detto che alcune piattaforme che consentono di avere accesso al Nasdaq in Italia non ce li hanno ancora questi ETF dovrebbero arrivare. Tieni però presente che in Europa ci sono delle cose simili, ci sono degli ETN alla borsa di Zurigo, quindi volendo si possono magari non quelli che sono stati inacciati oggi, ma altri ci sono, si possono già comprare, basta andarli a cercare. Il wallet potrà resistere ai computer quantistici? Allora, tenete presente che all'interno di un wallet bitcoin in realtà ci stanno solo le chiavi private. I computer quantistici per quanto se ne sa al giorno d'oggi non sono in grado di risalire alla chiave privata partendo dall'indirizzo pubblico, ok? Quindi sono sicuri. poi un domani ma non tra dieci anni, ok? Tra molti decenni nel caso in cui fossero in grado si potrebbe fare una modifica al protocollo bitcoin rendendo le chiavi private ancora più difficili da individuare. Quindi per ora questo rischio non c'è. Il grosso problema sarebbe per quanto riguarda le firme in realtà lì lì forse sarà un po' più difficile c'è tra una soluzione però si è estratta sempre di problemi che ci saranno tra qualche decennio quindi non nei prossimi anni vedremo quanto. Ok poi andiamo avanti ecco facciamo questo l'entrata massiccia degli istituzionali con gli etf potrà secondo te con il tempo minare la natura decentralizzata di bitcoin e portarlo ad un vicolo cieco? No la natura decentralizzata di bitcoin rimarrà perché bitcoin ricordatevelo è basato su una rete p2p cioè tutti gli etf si basano su bitcoin e bitcoin a sua volta è basato su una rete p2p quindi la natura decentralizzata rimarrà semplicemente ci saranno sempre più persone che non utilizzeranno bitcoin in maniera decentralizzata ok? quindi chi vorrà continuare a usare in maniera decentralizzata potrà e gli altri invece non lo useranno in maniera decentralizzata questo è un peccato però è inevitabile perché comunque molte persone soprattutto gli investitori vogliono avere un etf cioè qualcosa molto facile da usare sulle stesse piattaforme su cui pagano già le plus valenze in automatico non devono star lì a custodire le chiavi private eccetera ma questo vale soprattutto per i grandi investitori e quindi noi avremo da un lato gli istituzionali che useranno bitcoin in modo centralizzato e dagli altri i retail che useranno spero sempre di più bitcoin in maniera decentralizzata speriamo poi vedremo ricordatevi che gli etf hanno un costo annuale ok? mentre invece tenere bitcoin su wallet non custodia non ha un costo annuale tranne l'imposta di bollo del 2 per 1000 in Italia qual è il modo più veloce meno dispendioso in termini di fee per comprare bitcoin e no che yc e no che yc allora per carità tieni presente che sugli exchange normali se tu tu puoi comprare bitcoin in modo veloce poco dispensione però hanno che yc no e yc è un casino perché devi fare una transazione su blockchain ok? esistono dei software che ti consentono di fare scambi di bitcoin senza che vuoi sì cioè senza la verifica dell'identità e però la transazione avviene un chain e se avviene un chain le fissano alte io spero che quanto prima qualcuno crei un dex cioè un exchange decentralizzato su lightning network quando ci sarà un exchange decentralizzato su lightning network con le stable coin su lightning network allora avremo finalmente un modo veloce poco dispendioso in termini di fee per comprare bitcoin senza che vuoi sì però bisognerà attendere quel momento ci sono due progetti che ci stanno lavorando però nessuno dei due è arrivato ad un ad un punto di svolta sono ancora e sono anni che ci stanno lavorando ma niente di ci vuole un bel ritracciamento fisiologico troppa estensione non è sostenibile sono d'accordissimo però attenzione con bel ritracciamento a mio parere andrebbe benissimo anche solo tornare a 40.000 dollari cioè io non allora stando ai cicli passati il prezzo di bitcoin all'alving di aprile dovrebbe arrivarci a circa 35.000 dollari però in questo momento sarebbe un po' tantina come grossina come discesa ah vedi invece uno qualcuno dice su Binance avevo 1200 euro al 31.12 se sotto i 12 euro non devo pagare nulla perché mi hanno chiesto di pagare 2.2 ecco secondo me se non ho capito male invece Binance ha messo un limite a 1 euro ok quindi tu 2.2 eri fuori io invece che ci avevo molto di meno di 1200 dollari perché io sottengo proprio pochissima roba sugli exchange avevo meno di un euro e non me l'hanno fatto pagare ecco perché qualcuno continua a dire che bisogna guardare la UM e non il volume che differenza c'è no attenzione non è che bisogna guardare la UM e non il volume bisogna evitare di confonderli perché sono due cose completamente diverse allora te lo faccio vedere ok allora fammi fare questa condivisione ve l'ho già fatto vedere prima ve lo faccio rivedere ok allora no scusate ho preso quello sbagliato è questo quello giusto allora la UM ok è il cosiddetto asset under management cioè il valore di mercato degli asset gestiti dal fondo questo fondo gestisce solo bitcoin quindi il suo AUM è il valore di mercato dei bitcoin che gestisce ibit e se andiamo a vedere c'è scritto qua sotto in questo momento o meglio il valore di mercato stamattina era di 10,4 milioni di dollari quindi l'AUM di questo etf era di soli 10,4 milioni di dollari io credo che aumenterà molto se però andiamo a prendere i volumi di scambio che sono quegli altri un'altra cosa che vi ho fatto vedere prima cioè questa ok vedete che sono 930 miliardi cioè 930 mila milioni di dollari ok quindi capite sono due dati completamente differenti l'AUM non è nient'altro che il valore di mercato del fondo degli asset gestiti al fondo il volume non è nient'altro che una banale moltiplicazione di tutte le azioni che sono state scambiate anche quelle che sono state scambiate più volte per il prezzo a cui sono state scambiate quindi i volumi indicano l'interesse del mercato l'AUM invece indica la grandezza del fondo tenete presente che un fondo come quello di grayscale che prima era un trust e adesso è un etf ha invece un AUM che è clamorosamente maggiore adesso vediamo se trovo il dato no purtroppo non lo trovo però stiamo parlando di 600.000 bitcoin quindi molti miliardi molte decine di miliardi di dollari io credo che l'etf di black rock pian piano nel corso del tempo salirà e probabilmente arriverà al livello di quello di grayscale bitcoin per come lo intendeva Satoshi è morto oggi xmr il vero bitcoin no secondo me xrm non è il vero bitcoin perché bitcoin ha tutte le transazioni in chiaro e Satoshi le aveva volute così xmr invece ha le transazioni criptate poi per carità cosa ne pensi di inyective me l'avete chiesto diverse volte non ho ancora approfondito però potrebbe essere un progetto interessante ok andiamo avanti allora qualche giorno fa ho letto che sono stati mandati dei bitcoin al wallet originale secondo te può essere una strategia per incrementare il prezzo meno bitcoin in circolazione visto che il primo è fermo allora attenzione sono stati mandati dei bitcoin ma non al wallet originale all'indirizzo originale cioè al primo indirizzo all'indirizzo che ha usato Satoshi Nakamoto per minare il primo blocco della blockchain di bitcoin però attenzione vengono mandati in continuazione dei bitcoin a quell'indirizzo adesso io cerco di recuperarvelo vediamo vediamo se riesco a recuperarvelo così alla veloce ok ci siamo ci sono quasi scusate perché non è che ce l'ho proprio proprio sotto mano allora condivido lo schermo allora questo è il blocco numero 0 di bitcoin cioè il primo blocco che sia mai stato minato all'interno di questo blocco c'era un'unica transazione con la quale Satoshi Nakamoto ha creato i primi 50 bitcoin ok questo è questa è la transazione vedete la transazione non è una transazione con uno scambio di bitcoin un invio di bitcoin ma semplicemente dal coinbase che è la creazione di bitcoin dal nulla sono stati creati 50 bitcoin e mandati su questo indirizzo questo è il primo indirizzo di Satoshi Nakamoto ok ora questo indirizzo adesso in questo momento non c'è 50 bitcoin ma ne ha 99,69 e guardate che cosa curiosa nel corso del tempo ha ricevuto 99,69 bitcoin di cui 50 del coinbase del primo blocco e gli altri sono stati inviati nel corso del tempo e non ne ha mai speso nessuno se andate a vedere ci sono tantissime guardate un continuo guardate quante transazioni quanta gente continua a mandare bitcoin a Satoshi Nakamoto una cosa pezzesca perché li mandano perché sanno che Satoshi non li ha mai spesi cioè questi se Satoshi è morto come è possibile e se le sue chiave private sono andate perdute perché non l'ha lasciata nessuno questi 99,69 bitcoin sono persi per sempre però attenzione ok di bitcoin in circolazione ce ne sono 19,5 milioni quindi averne bruciati 99,69 è irrilevante quello che l'altro giorno ha inviato i bitcoin a quelli indirizzo ne ha inviati mi sembra siano ancora male circa 27 26,9 non ha nessun impatto sul prezzo bruciare 26,9 bitcoin secondo me si è sbagliato secondo me ha fatto un errore clamoroso ha perso un milione di dollari in bitcoin perché le ha mandato un indirizzo sbagliato perché è l'unica transazione di quel genere se voi andate a scorrere tutte quelle transazioni che vi ho fatto vedere prima sono tutti di importi piccolissimi ok l'unica transazione grande che sia mai stata inviata a quell'indirizzo è quella lì quindi secondo me è un errore perché è un'anomalia andiamo avanti ah Vanguard e Boffa si stanno creando addosso cercando in tutti i modi di aggenare bitcoin allora attenzione ad una cosa allora tenete presente che ci sono alcune società americane che stanno vietando ai loro utenti di acquistare i nuovi etf in particolare Vanguard Vanguard però attenzione è il principale competitor di BlackRock BlackRock è il primo gestore patrimoniale al mondo Vanguard il secondo sono competitor quindi secondo me Vanguard non va bene non gli va giù che la gente vada ad acquistare gli etf di BlackRock e faccia il gioco di BlackRock ok poi prima o poi lo dovrà aggiungere per forza quello e gli altri gli altri invece cioè gli altri che stanno impedendo questa cosa a quanto pare probabilmente semplicemente si sono presi un po' di tempo cioè spesso sulle piattaforme quindi non direttamente sul Nasdaq ma sulle piattaforme che si collegano al Nasdaq o agli altri exchange i nuovi asset non arrivano necessariamente subito quindi può darsi che nei prossimi giorni arrivano arrivino anche sugli altre piattaforme e su quello di Vanguard sembra di no perché Vanguard proprio ha detto chiaramente che non vuole avere Bitcoin e poi c'è la contro BlackRock io voglio proprio vedere quanto riusciranno ad evitare di offrire tramite la loro piattaforma e i loro clienti etf su Bitcoin perché se quelli di BlackRock hanno tutto quel successo prima o poi Vanguard dovrà mollare e accettare che anche i loro clienti investano in etf su Bitcoin ok poi cosa ne pensi di Bitcoin e Minetrix ha buone prospettive di crescita nel corso dell'anno non lo conosco Bitcoin e Minetrix no 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 niente mi spiace ma non so rispondere credo che sia qualcosa che abbia a che fare col mining attenzione se cloud mining fate molta molta attenzione ok lo voglio dire per l'ennesima volta la maggior parte delle piattaforme di cloud mining sono truffe fate attenzione ok voi gli date i soldi perché loro minino Bitcoin loro non minino niente e poi non ve li danno più indietro la maggior parte non tutte ce n'è qualcuna rara che funziona se ad esempio io nel 2024 vendessi 10.000 dollari in Bitcoin di Bitcoin in Euro e sempre nello stesso anno ricomprassi 10.000 dollari in Bitcoin dovrò pagarci il 26% attenzione ok non si paga il 26% sull'importo venduto cioè quello che dipende non è quello che conta non è quanti euro hai incassato vendendo Bitcoin ma quanto c'hai guadagnato cioè tu devi prendere quei 10.000 euro che hai incassato vendendo Bitcoin e sottrarre il costo di acquisto dei Bitcoin che hai comprato quindi quindi la differenza che il guadagno o in gergo tecnico si chiama plusvalenza non sarà di 10.000 dollari di quanto sarà ebbene se è inferiore a 2.000 euro in Italia non è passata cioè in Italia le tasse sulle plusvalenze derivanti da vendite di crypto lute partono da 2.000 euro di plusvalenza complessive in su se tu però hai più di 2.000 euro di plusvalenze allora devi pagare il 26% su quelle plusvalenze non puoi detrarre dalle plusvalenze eventuali altri acquisti puoi solo detrarre eventuali minusvalenze ok quindi se tu nello stesso anno hai poi ricomprato 10.000 euro di Bitcoin quello non lo puoi detrarre dalle plusvalenze precedenti quindi pagherai il 26% sulle plusvalenze ma se dopo averli comprati li rivendi in perdita e una minusvalenza alla fine dell'anno dovrai prendere le plusvalenze e sottrarre le minusvalenze ok cosa sai dell'etf su ethereum dovete sapere che BlackRock se non sbaglio BlackRock ha anche richiesto ha presentato alla SEC una richiesta per l'emissione di un etf su ethereum spot io so che scade a maggio quindi entro maggio la SEC dovrà pronunciarsi anche sull'etf su ethereum spot però qua c'è una complicazione almeno sono due le complicazioni però sono legate il punto è che la SEC in questo momento non considera ethereum una commodity questi etf possono essere emessi perché gli etf su bitcoin perché bitcoin è considerato una commodity invece la SEC teme che ethereum vada considerata una security non registrata le security non registrate non possono essere vendute liberamente e illecito quindi se la SEC considera ethereum una security non registrata boccerà l'etf su ethereum spot però attenzione non è la SEC a decidere se ethereum deve essere considerata una security oppure una commodity inoltre c'è una sentenza dell'anno scorso di un tribunale che dice che xrp sul mercato secondario cioè sugli exchange non è da considerare una security quindi stando a quella sentenza anche ethereum dovrebbe essere considerato una non security e quindi la SEC potrebbe essere costretta ad approvare anche gli etf su ethereum spot perché esistono già gli etf sui future di ethereum e la sentenza che ha sbloccato tutto quella a favore di grayscale diceva che la SEC non poteva rifiutarsi di approvare gli etf su bitcoin spot se già esistevano gli etf sui future di bitcoin e quindi se tutto fa sembrare che la SEC sarà costretta ad approvare anche gli etf su ethereum spot a meno che non saltino fuori novità a meno che la SEC non riesca in qualche modo ad ottenere una sentenza che dice che ethereum è considerato una security il problema di ethereum è lo staking perché lo staking dà un rendimento e quindi quello potrebbe essere considerato un contratto di investimento c'è però da dire che lo staking fatto da soli su un proprio nodo che dà guadagni non in valuta fiat ma in ethereum potrebbe non essere considerato un contratto di investimento quindi la questione è un po' complicata ok vedremo io sono dell'idea che probabilmente lo approverà a maggio il motivo per cui ethereum in questi giorni sta salendo è questo proprio perché si stanno gli investitori si stanno preparando all'eventuale lancio dell'etf su ethereum spot a maggio ora che sembra che la SEC non possa rifiutarsi di approvare già da questa mattina sull'apro binut si possono scambiare gli etf e i volumi di oggi sull'ap erano più alti che su apple ed amazon unite è interessante come cosa dovete sapere che in realtà questi etf è vero che sui mercati sono sbarcati oggi pomeriggio alle 15 e 30 ma in realtà erano già scambiabili questa mattina sul pre-market quindi gli scambi erano già iniziati prima quindi questa cosa è molto interessante non pensi che sia certo una bull era potente sei mesi dopo l'albing come c'è sempre stato ogni ciclo no attenzione sei mesi è sbagliato nel senso che mi spiego nel 2012 l'albing fu a novembre e la la bull run partì se non sbaglio a febbraio quindi tre mesi dopo nel 2016 l'albing ci fu a luglio la bull run partì tra dicembre e gennaio quindi in quel caso furono sei mesi no meno di sei mesi meno di sei mesi nel 2020 l'albing fu a maggio la bull run partì a novembre quindi furono sei mesi a tutti gli effetti io credo che con l'albing ad aprile e gli etf che durante il corso dell'anno dovranno iniziare a crescere a mettere azioni a ritirare bitcoin dal mercato magari parte anche prima questa bull run lo so è che sembra strano che per la prima volta nella storia di bitcoin ci sia una grande bull run nell'anno dell'albing però secondo me è una ipotesi da tenere in considerazione la dobbiamo per forza di cose prendere in considerazione perché in effetti potrebbe essere potrebbe esserci un'anomalia quest'anno dovuta all'albing anticipato nel senso che apposso che sarà maggio come nel 2020 e l'aprile ma soprattutto grazie a questi etf che non ci sono mai stati è una bull run sulle altcoin tenete presente che spesso le altcoin seguono bitcoin poi però quando il prezzo di bitcoin si ferma cioè smette di salire in modo significativo vanno avanti per loro conto fanno una performance inferiore prima quando la performance di bitcoin è sostenuta poi quando quella di bitcoin si ferma diventa sostenuta la performance sulle altcoin ad esempio nel 2017 la bull run delle altcoin finì a gennario 2018 ok invece nel 2021 la bull run delle altcoin finì sempre a novembre più o meno non tutte ma la maggior parte a novembre ma in realtà ad aprile durante la prima parte della bull run le altcoin andarono avanti fino a maggio bella questa voglio fare gli auguri a tutti quelli che come noi hanno creduto in questo asset anche se tutti ci denigravano io me lo ricordo chiaramente nel 2018 2018 è stato un anno difficilissimo per bitcoin per carità l'anno peggiore della storia per bitcoin è stato il 2015 io ad esempio lo ammetto io nel 2015 ho abbandonato bitcoin poi l'ho ripreso nel 2016 però nel 2015 l'avevo abbandonato però il 2018 fu un anno difficile veramente ci dissero di tutti i colori alla fine abbiamo avuto ragione quindi se anche se reinvestissi la plusvalenza acquistando il nuovo bitcoin dovrò comunque pagare il 26% sì perché tu se hai plusvalenza devi pagarci le tasse sopra ma dalle plusvalenze non puoi sottrarre eventuali spese puoi sottrarre solo eventuali minusvalenze mi raccomando questo è un concetto importante plusvalenza non equivale ad incasso che quando tu incassi degli euro vendendo criptovalute non è detto che tu abbia plusvalenze le plusvalenze sono un'altra cosa stessa cosa vale per gli acquisti la spesa non equivale alla minusvalenza quindi per le tasse contano le plusvalenze e le minusvalenze non gli incassi e le spese questa cosa è importantissima c'è anche da vedere come va a finire il caso Coppa contro Craig Bright secondo me va a finire esattamente come è già finito a febbraio non so se lo sapete ma Craig Bright aveva denunciato non il Coppa ma alcune aziende che facevano parte del Coppa in particolare Coinbase perché li accusava di violare il diritto d'autore su bitcoin perché sosteneva che il diritto d'autore fosse suo a febbraio Bright ha perso questa causa perché il tribunale non ha riconosciuto Bright come il possessore dei diritti su bitcoin cioè non ha riconosciuto Bright come Satoshi Nakamoto perché Bright non è mai riuscito in tutti questi anni a dimostrare di essere Satoshi Nakamoto per inciso dimostrare di essere Satoshi Nakamoto è facilissimo basta fare una firma digitale con l'indirizzo che vi ho fatto vedere prima perché il primo indirizzo di bitcoin cioè quello usato nel blocco numero zero è sicuramente quello di Satoshi Nakamoto non c'è il minimo dubbio con quell'indirizzo avendo la chiave privata si può firmare una qualsiasi cosa anche solo una stringa di tempo di testo quindi se Craig Wright fosse Satoshi avrebbe quella chiave privata quindi il giudice gli potrebbe dire firmami questo testo lui lo potrebbe firmare con la chiave privata e il giudice con l'indirizzo pubblico potrebbe verificare che effettivamente quel testo è stato firmato con quella chiave privata cioè quindi il giudice non conoscerebbe la chiave privata però avrebbe la dimostrazione che sicuramente quel testo è stato firmato con quell'indirizzo Craig Wright non è riuscito a farlo non è riuscito a farlo mai né con quel indirizzo cioè con quella chiave privata né con nessun'altra chiave privata di Satoshi Nakamoto quindi Craig Wright non è Satoshi Nakamoto ed è destinato a perdere anche questa causa tra l'altro il Copa è una potenza in questo caso la causa del Copa contro Wright perché poi alla fine il Copa ha controdenunciato Wright pensate che Wright è stravolta per difendersi si è inventato perché diciamoci chiaramente si è inventato probabilmente si è inventato che in un comodino ha trovato una chiave USB che si era sempre dimenticato lì con dentro guarda caso le prove che dimostrebbero che lui è Satoshi Nakamoto guardate ne ha mentito talmente tante volte che qualsiasi cosa dica in questo momento a meno che non si venga dimostrato il contrario non bisogna crederli quindi non ce l'ha fino a dove può spingersi Solana quest'anno attenzione perché Solana si è già spinto davvero tanto 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 se non sbaglio il massimo è stato 124 dollari io non so se possa superare i 124 dollari in questo momento nell'attuale fase ok quindi se poi dovesse esserci una grande bull run ok allora sì però in caso di grande bull run magari ne riparliamo cioè è tutto un altro paio di maniche ma adesso in questo momento io invece ritengo che possa esserci un ritracciamento di bitcoin e magari anche uno di Solana in realtà il prezzo di Solana ha già fatto un primo ritracciamento fin sotto i 90 dollari cosa che a mio parere era assolutamente molto probabile infatti io l'avevo anche scritto su su X a dire il vero io ho fatto anche un sondaggio diciamo tra i miei follower e i miei follower sostengono che dovrebbe riscendere ancora fino a 60-70 dollari io questo non lo so però sinceramente in questo momento che superi 124 dollari me lo vedo difficile io ad esempio ho un'idea che difficilmente bitcoin nel suo breve periodo supererà i 50.000 dollari perché magari ci arriva ma poi nel weekend è un po' difficile senza ETF sarà un po' difficile poi ne riparliamo quando inizieranno a avvicinarsi il momento del taglio dei tassi ve lo faccio vedere perché questa è una cosa molto importante questa è una pagina del CME in cui vi fanno vedere quali sono le probabilità dei mercati per quanto riguarda il taglio dei tassi ora al 31 gennaio al 95% i tassi rimangono variati vedete l'attuale tasso è 525-550 e al 31 gennaio i mercati prevedono 95% 525-550 voi guardate a marzo a marzo ritengono il 68% che verranno tagliati di 25 punti e addirittura il 3% che verranno tagliati di 50 punti danno solo al 28% le probabilità che rimangano uguali se questa percentuale scende in modo significativo a mio parere potrebbe riprendere una nuova piccola bull run anche perché poi ad aprile dopo c'è l'albing tenete presente che in passato l'ho fatto già altre volte prima dell'albing è un po' salito appena dopo l'albing è un po' sceso e mesi dopo l'albing c'è stata la bull run quindi a questa domanda su Solana bisognerebbe rispondere qualche mese dopo l'albing secondo me quando forse ci sarà una nuova bull run è possibile conoscere quanti bitcoin sarebbero stati bloccati dall'acquisto delle azioni negli etf di oggi così da comprendere di che numeri parliamo approssimativamente sì sarà possibile ma probabilmente solo domani cioè questi dati non sono aggiornati in tempo reale quindi probabilmente domani potremmo andare a verificare se hanno fatto altri acquisti in realtà forse bisognerà aspettare che presentino i documenti alla SEC e non so quando li presentino però ad esempio quello che vi facevo vedere prima ve lo rifaccio vedere questo è una pagina che vi consiglio di tenere sott'occhio tanto basta che andate sul sito di iShare e cercate iBit nella ricerca questo è il dato aggiornato a ieri se andate a vedere c'è scritto chiaramente qua proprio nero su bianco che possiedono 227,9 Bitcoin domani vedete gennaio 10 gennaio 2024 cioè ieri domani qua ci sarà 11 gennaio 2024 e magari c'è un altro dato questo per quanto riguarda le TF di BlackRock magari la stessa cosa si può fare anche con gli altri TF io non sono andato a controllare mi interessa soprattutto questo iNews sulla questione del pagamento del 26% di tasse in USDT stablecoin a me risulta che si paghino poi per carità c'è questa questione che forse USDT non è un imani token io però sinceramente vi sconsiglio di rischiare cioè USDT secondo me verrà in qualche modo fatto a rientrare negli imani token e quindi ci sarà da pagare io ad esempio io non vendo ok però se vendessi in USDT e incassassi plus valenze pagherei il 26% sulle tasse in USDT senza star lì a far troppo il furbo perché già con DAI siamo ai limiti ok cioè è proprio solo pura forma che DAI non sia considerato un imani token tenete presente che DAI è collaternizzato in ethereum in bitcoin eccetera per quello potrebbe essere considerato un asset vabbè non viene nel termine reference token e non un imani token ok cosa ne pensi di ethereum della narrativa sul suo ethereum etf spot potrebbe salire fino a 4000 dollari entro pochi mesi allora diciamo che già in questi giorni ha fatto un bel aumento perché vado a prendere il dato ecco in questi giorni è passato da 2300 a 2600 dollari che è già tanta roba pian piano che si avvicina maggio probabilmente potrebbe salire ancora quel 4000 è altino perché se non ricordo male il massimo storico di ethereum è 4000 2008 4000 è un po' alto però non è impossibile seguite seguite ethereum da qua fino a maggio perché magari potrebbe fare qualcosa di interessante non è detto però la narrativa sull'etf su ethereum spot secondo me è quella che in questo momento sta facendo la differenza sul prezzo di ethereum nell'interfaccia finanziaria di deutschbank italia sembra si possono comprare l'etf di black rock quindi vedete che qualcuno li sta già mettendo io sono dell'idea che prima o poi riminono dappertutto cioè sono talmente richiesti dal mercato che è difficile che qualcuno decida di non mettere anche quelli che fanno i furbi tipo vanguard prima o poi credo che li metteranno quindi non mi stupisce questa cosa oggi mi hanno detto quelli che usano mediolanum mi hanno detto che non c'erano quelli che usano banca intese mi hanno detto che non c'erano certo deutschbank italia è un'altra cosa come vi dicevo vada piattaforma piattaforma ok perché alcuni li aggiungeranno prima alcuni li aggiungeranno dopo ora se io avrei finito se non avete altre domande ci rivediamo giovedì prossimo e tanto i dati sui volumi che volevo farvi vedere ve li ho già fatti vedere ditemi voi se ci sono delle altre domande che volete fare dell'ultimo minuto altrimenti la chiudiamo qua che oggi è già stata una giornata abbastanza impegnativa perché è veramente successo non dico di tutto ma insomma di cose ne sono capitate tra l'altro nel frattempo il prezzo di bitcoin è risalito a 47 mila dollari io sinceramente sono dell'idea che fino ancora domani questi etf avranno effetto positivo sul prezzo di bitcoin domani quando più nelle borse vedremo ultima domanda dai il grafico fatto da te sullo stock to flow non lo fai più no io ritengo che lo stock to flow di plan B vada considerato come saltato pensate che plan B sta continuando a portarlo avanti secondo lui il prezzo di bitcoin nel 2025 arriverebbe a oltre 500 mila dollari io la ritengo una cifra davvero troppo troppo esagerata è una cifra quasi per 10 rispetto ai precedenti massimi io sinceramente già un per 5 dai precedenti massimi lo vedrei come abbastanza difficile figuriamoci un per 8 ecco per essere precisi non me lo vedo quindi io ho smesso di considerare quello su to flow come interessante quindi ho smesso anche di fare la mia proiezione che era derivata di quella con semplicemente io prendevo gli stessi dati e gli ritardavo di un po' ok e lo so che era interessante nella scorsa bull run tra l'altro nella scorsa bull run lo stop to flow di plan B diceva 100 mila dollari a mio parere i 100 mila dollari nel 2021 sarebbero arrivati a fine 2021 se la Cina non avesse fatto il ban non dimentichiamoci che nel 2021 il prezzo di bitcoin è arrivato a 64 mila dollari già ad aprile poi è sceso poi è fatto una seconda bull run ma che ha portato il prezzo a 69 mila dollari che più o meno ha la stessa cosa 69-64 fa poco la differenza mentre la seconda bull run il mio parere avrebbe dovuto arrivare fino a 100 mila dollari solo che a maggio la Cina ha messo il ban e sono venuti a mancare i capitali cinesi con i capitali cinesi che adesso ci sono secondo me sarebbe arrivato a 100 mila dollari e quindi lo so to flow di plan B avrebbe avuto ragione però purtroppo da allora si è completamente distaccato un per tre lo ritieni probabile ecco probabile non lo so io non faccio mai previsioni perché non sono capace però lo ritengo possibile vi dirò di più l'ultima volta ha fatto un per 3,5 ok da circa 20 a circa 70 mila se però prendiamo 100 mila che ha più senso per fare questi ragionamenti secondo me in realtà avrebbe fatto un per 5 ok quindi un per 3 da quel per 5 scusate da dopo quel per 5 ci starebbe quindi non un per 3 da 70 mila ma un per 3 da 100 mila quindi sarebbe possibile un 300 mila dollari quindi quasi un per 5 dai precedenti massimi quanto sia probabile non lo so anche perché poi magari capita qualcosa cioè capita qualcosa tipo come quello di marzo 2020 magari a marzo 2020 i mercati si ripresero nel giro di un mese grazie alla Fed la Fed che aveva un bilancio di circa 4 mila miliardi di dollari in pochi mesi l'ha portato a 9 mila miliardi di dollari c'è più che raddoppiato se non era per quello altro che 2020 ok e sarebbe stato tutto completamente diverso dai basta ragazzi abbiamo fatto un'ora ci vediamo giovedì prossimo mandatemi le domande via email info chiocciola marco cavicchioli punto it e poi noi ci vediamo su twitter c'è su x tutti i giorni con un sacco di notizie novità seguitemi un saluto ciao